Al comando delle operazioni Manzanilla-Motorritz, poi c'è ancora il numero 7 di Ormoer, quindi il numero 8 di Mantomaniz, quindi Igor Stravisky. Qui dietro c'è Occhi Blu-M, Shiam, Igor Stravisky, poi c'è Lapidus-Gid, in avanti Motorritz che comanda la situazione nei confronti di Manzanilla, poi c'è ancora Orma-OR, a largo Igor Stravisky, quindi c'è Lapidus-Gid che lotta con Occhi Blu-M. In avanti Motorritz, Motorritz che controlla Motorritz, ma c'è Igor Stravisky a largo, Igor Stravisky che insiste su Motorritz, poi a largo è rimasta Orma-OR, è passato Igor Stravisky, Motorritz dietro, poi Orma-OR, ancora il numero 2 di Lapidus-Gid. In avanti sempre e comunque il 3 di Igor Stravisky con Motorritz, poi c'è ancora Lapidus-Gid che ora prova a venire via. In avanti sempre e comunque Igor Stravisky, l'errore di Lapidus-Gid ma viene rimesso a volo. In avanti Igor Stravisky, poi c'è ancora Mantovaniz per via interne, Motorritz che segue, poi ancora Orma-OR che viene passata da Lapidus-Gid a largo, quindi il numero 1 di Manzanilla. In avanti Igor Stravisky, che controlla Motorritz che ora ci prova a largo di Igor Stravisky, quindi Igor Stravisky, Motorritz, ancora Mantovaniz lungo i birilli su Manzanilla che comunque si riesce a liberare. In avanti è Igor Stravisky che viene a vincere su Motorritz, 3-6-1, la trio di questa corsa, vittoria per Igor Stravisky senza grossi problemi.